La tragedia degli Yazidi continua a scioccare il mondo. Si calcola che siano oltre 400.000 gli appartenenti a questa minoranza che nel nord dell'Iraq fuggono per evitare le sanguinose persecuzioni dei guerriglieri dello Stato Islamico. Qui siamo a Douk, dove alcune famiglie hanno trovato rifugio. Hanno usato contro di noi razzi, mortai e mitragliatrici. Noi non avevamo abbastanza munizioni, quindi siamo stati costretti a fuggire sulle montagne. I bambini sono morti, i vecchi sono morti, siamo appena riusciti a evacuare quell'uomo anziano. Si sono presi le donne e le ragazze. Agli Yazidi che non riescono a scappare, i guerriglieri islamici riservano una terribile fine. Di religione ezzoroastriana, gli Yazidi iracheni fanno parte della minoranza kurda. E' Grazie a tutti.